Oggi è giorno di compleanno, sapete perché? Perché fa un anno che è stata inaugurata quella che è la risonanza magnetica qui all'ospedale di Partenico, inaugurata appunto con Candela in Pompamagna un anno fa. Mettiamo un velo pietoso su quello che è stato, diciamo, il di mettere questa risonanza magnetica all'interno di questa sala. Vi ricorderete sicuramente che addirittura hanno sbagliato le misure, sono stati costretti a rompere il muro per entrare la macchina perché addirittura avevano sbagliato le misure e quindi poi l'hanno sistemata, tutto apposto. Costo più di un milione di euro. Voglio dirvi che mi trovate vestito così perché vorrei copiare un po' la nostra, ecco, Stefania Petix, la Stefania che con lo bassotto e con il mantellino giallo, diciamo, che denuncia tutti questi sfreghi. Il problema è che io al posto del bassotto ho un mare in mano e al posto della tuta gialla, ovviamente essendo in ospedale, mi sono vestito da ris. Ecco, chiarito questo, parliamo di questa risonanza magnetica. Costata, appunto, come dicevo, più di un milione, costa più di 50.000 euro l'anno per la manutenzione che si deve fare obbligatoriamente, quindi o lavora o non lavora, 50.000 euro vengono spesi, però il dottor Candela o chi per lui si è dimenticato di metterci i tecnici e i medici. Pensate che in un anno la risonanza che serve per i ricoverati dell'ospedale ha fatto una ventina di risonanze fatte tra gli addetti ai lavori per provarla. Sapete, tira come un mare in mano, quindi per provarla, per vedere se funziona, i dipendenti dell'ospedale si sono fatti la risonanza magnetica. Dopodiché, nell'arco di un anno, questa risonanza ha lavorato sì e no una quarantina di volte, cioè si fanno in una settimana. Ovviamente i medici dell'ospedale, sapendo le difficoltà che ci sono, sia dei tecnici che sono stati prestati, addirittura qualcuno è venuto da Lercara Friddi, poi ha fatto il ricorso, l'ha vinto e prossimamente se ne andrà e quindi non ci sarà nemmeno il suo tecnico che guarderà la macchina, perché alla fine non fanno altro che guardare questa macchina. Vogliamo denunciare questo spreco a quello che è il primario di radiologia che tra le altre cose il dottor si chiama Barbici, qualcosa del genere, lavora pure a Palermo, qui non si vede mai e quindi abbiamo anche queste difficoltà. Caro primario, se una macchina del genere deve stare qui ferma perché mancano i tecnici, perché mancano i medici, io direi di fare una cosa, visto che ci sono questi buchi nella sanità, vendiamola, la facciamo riuscire di nuovo, vediamo se c'è qualche privato che se la vuole prendere, la vendiamo, altrimenti mettiamoci i medici, mettiamoci i tecnici e facciamo lavorare una macchina che costa, hai contribuenti più di un milione di euro e 50 mila euro l'anno per la manutenzione. Ora vediamo se Cucciolo, si chiama Cucciolo, Cucciolo sei d'accordo tu? Che ne pensi tu? Tu che ne pensi? Sei d'accordo? Vuoi dire qualcosa? Anche un vaffanculo diciamo a questo spreco, che vuoi dire? Ecco, ha detto vaffanculo. Grazie. 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 Grazie.